su batflag allora vediamo un po 123 euro di cassa iniziale vediamo come va questa giocata 15 ripetiamo questa abbiamo un 15 un 5 mi riprendo questa ora doppio fate le ultime scommesse niente più scommesse grazie prego eccolo qua 32 dammi 7,40 ok ora 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 facciamo così 24 siamo un po troppo veloce però mi ricordo live auto roulette che in realtà è un'automatica in live 29 26 anche 16 19 per 2 però mi ricordo con quanto sono partito 20 20 28 ok ripunto non incremento non raddoppio lasciamolo così tecnica ripuntata tecnica ripuntata il pilastro 0 sballatutto niente da fare quindi ripunto sempre questo non raddoppio ancora si blocca un po' la connessione abbiamo il 27 27 27 28 niente 2 euro di puntata mi pare che avevamo 122 ora non ricordo l'inizio 21 ah no 20 per culo questa perché perché mi ha dato il 20 ragazzi ah sì ecco perché si blocca il video qua eh mi ha ridato un euro 22 nero no non me l'ha dato questo perché fate il vostro gioco fate le ultime scommesse niente più scommesse grazie se lo ritentiamo questa auto roulette fa un po' cagare che la connessione vi assicuro è veloce ha sempre questi problemi qua di di latenza ma è un errore loro ancora 17 io sento che devono uscire questi numeri raddoppio adesso 5 euro fate le ultime scommesse niente più scommesse grazie niente più scommesse niente più scommesse siamo scese il 4 niente più scommesse quattro nero ci puntiamo di nuovo più il 31 il 34 niente più scommesse grazie niente più scommesse ok preso 26 26 16 19 30 prego quanto abbiamo fatto 10 euro l'uno 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 mancava da un bel po' ripetiamo l'uno mancava da un bel po' 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 gioco ancora così perché ho due opzioni che possano uscire di nuovo quelli di quelli che ho puntato, 13, vado a ripuntare di nuovo, raggiungere questi, mamma mia non ti permette di puntare questa macchinetta infernale, sì, il 2, siamo ancora bassi, è uscito l'1, 1, 11, 35, 13, 2, ripercorriamo questa giocata, niente più scommesse, grazie, vediamo un po', ok, 19 preso, immaginavo, ripunto di nuovo questi numeri, questo perché ho notato che non sempre è bello sballare la giocata, quando escono è bene anche ripuntarli un'altra volta, gli stessi numeri o comunque la stessa giocata precedente, perché molte volte la roulette tende a fare il contrario, cioè pensa che tu non andrà a ripuntare lo stesso numero che hai vinto e molte volte infatti può ripresentarsi lo stesso numero o comunque gli stessi numeri in gioco che avevamo precedentemente puntato e magari avevamo anche finito, la riproviamo così, qui abbiamo un 30, quindi molto probabilmente uscirà, ho un 36, un 22, io la gioco ancora a raddoppio, 3 euro, un 22, quindi un 25, un 36, ho di nuovo un 30, eccolo qua, 12, prescatto, quant'è? 14, benissimo, questo è il pilastro che intendo io, io lo ripunto di nuovo, se ce lo fa puntare e mi punto questi, ragazzi, non ti fa puntare, ok siamo saliti, 28, 28, 28, 28 malattento, attento così, 33, 26, 29, 16, 16, 16, rosso, puntiamo questo, sempre pilastro, fisso, fammi puntare, 7, 8 e 1, 17, 17, 17, nero, ok, ma retento così, cosa sta succedendo? Ah, mi ha saltato il giro direttamente, benissimo, ah, adesso che ho puntato, guardate la merda, cioè praticamente io l'ho puntato il 7, come è successo, che se ho bloccato internet, non so, è uscito il giro dopo, che avevo già appunto a bastardi, secondo me a volte ogni tanto questi blocchi sono fatti un po' apposta, comunque, 15 euro quasi, non so, è uscito, anche l'8 è uscito, benissimo, allora io, provo a fare questa puntata qua, sbaglio la puntata, perché io sono abituato col computer, adesso sto scaricando una, sto caricando un video, quindi è bloccato, col touch screen im, non è che sono molto, non è uscito, 18, 18, 18, ok, allora io faccio così, 16, 19, 30, sbaglio a puntare, ecco, niente più scommesse, grazie, niente più scommesse, sì, ma neanche neanche blocchi, però, come prima, perché il numero è impuntato prima, eccolo qua, eh, ti sto cappendo, ma, mascherina, ti conosco, e mi ripunto questi, ragazzi, a 40 mi fermo, perché poi la conosco, proviamoci questi 2 euro, si blocca tantissimo, ho preso anche il 14, facciamo il nostro gioco, questa è la tecnica che intendo io del pilastro, ragazzi, io ho notato queste, che si ripetono questi numeri, non so, ah, l'uno stava andando a puntarlo, non l'ho messo, però siamo tornati bassi, facciamo il nostro gioco, facciamo il nostro gioco, mi punto il 3, il 2, il 7, state mandando un video a palla con la, nel gruppo Telegram per tutte, anzi, sotto il link del video, sto postando il link per, per iscriversi, per iscrivervi al gruppo, ecco che mandano i commenti, sentiamo questa, a 45 mi fermo, però, raddoppiamo, 44,70, no, 42, ok, allora 40, ci fermiamo, di nuovo 14, 14 rosso, ok, facciamo l'ultima, ho capito che mi fa mangiare i soldi, però dammi il tempo di puntare, di ragionare un attimo, proviamo questa ragazzi, niente da fare, 33, 33 nero, 33 nero, 13, 24, 26, è il pilastro mio, ci fermiamo qua, non l'ho puntata, va bene così, non so quanto ho fatto, poco comunque, va bene così, ciao ciao, iscrivetevi al canale, entrate nel gruppo Telegram, se volete ragazzi, e per il resto, niente, buona visione di video, come sempre, ciao a tutti da System Roulette Italia, ciao.